Quanti anni sono passati? Almeno sei, sette? Troppi. Ora ci siamo ritrovati. Ma che è successo? Qualcuno ci ha portato qua e se ne è andato. Non c'è niente qui fuori. Ci guardano. È questa? È bello rivedervi tutti insieme dopo tanti anni. Siete qui perché voglio sapere che cosa è successo davvero ad Alessandro. Io non ci ho mai creduto alla storia dell'incidente. Quindi se non si è suicidato, l'ha ammazzato uno di noi. Siete una sette esoterica. È il simbolo della nostra band. Ma ci siamo sciolti. Hanno smesso di sognare. E se fosse vero? Cosa? Che uno di noi sa qualcosa in più sulla morte di Alessandro. È arrivato il momento di dirlo. Allora qui c'è un bugiardo. Ce l'andiamo da qua. Ma dove? Che non c'è niente qui in poi. Come no? C'è quel paesino di Merra qua vicino. Ma se ci perdiamo, che facciamo? Io non ci resto più qui in punto! Se chi di voi sta mentendo non confesserà entro domani. Stai chiederti! Dai, ammazzami! Pagherete tutti. Benvenuti nel weekend della perdizione. E' un po' di più che in 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 più che